Buongiorno e benvenuti al TG6. Domani difficoltà per tutti coloro che vorranno spostarsi a bordo dei mezzi di trasporto pubblici abruzzesi perché la CGL e l'UGL Trasporti Abruzzo hanno proclamato 24 ore di sciopero in tutta la regione. Vediamo. 24 ore di sciopero domani 7 agosto da parte dei lavoratori del trasporto pubblico locale abruzzese per dire no alla politica della Giunta d'Alfonso sul TPL. CGL e UGL hanno organizzato due eventi, un sit-in alle 10 sotto la regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara e un incontro dibattito con i politici regionali a Teramo alle 17 all'hotel Abruzzi. I sindacati degli autoferro tranvieri contestano soprattutto i tagli al settore, meno 10 milioni di euro per il 2015, che significano anche tagli alle corsi e ai servizi. Poi ci sono le questioni aperte relative alle assunzioni e all'estensione a tutto l'Abruzzo del biglietto unico già attivo nell'area metropolitana di Chieti Pescara. Il nuovo trasporto pubblico locale deve puntare al fatto intanto di mantenere fondamentalmente un'azienda pubblica che gestisca il trasporto della nostra regione. E poi deve evitare di fare quello che è stato fatto nel passato, cioè intervenire sistematicamente sui tagli ai servizi, cosa che ha fatto anche l'azienda unica, nel cui piano industriale sono previsti appunto tagli ai servizi, affidamenti ai privati attraverso le subconcessioni. Noi queste operazioni le stiamo contestando. Altro motivo di scontro tra sindacati e politica è la sangritana e le 35 assunzioni con contratti di somministrazione che secondo i sindacalisti potrebbero costare caro alla collettività. Eh beh sì, quello come diciamo noi a foto finish. Mentre noi stavamo in regione per, stavamo discutendo il contratto, il nuovo contratto di Tua sui nastri, sui riposi e quant'altro, la stanza a fianco, a fianco del presidente Di Nardo, deliberava in GDA le nuove assunzioni e transazione a 110 mila euro. Questa mattina davanti al Consiglio regionale all'Aquila è iniziata la raccolta di firme organizzata dal Movimento Possibile, quello nato da una costola del Partito Democratico con a capo Pippo Civati, per arrivare ai referendum ben otto, tra cui anche due contro le trivelle sulla costa abruzzese. E partita oggi in Abruzzo, come in Molise, Sicilia e Sardegna, la campagna di raccolta firme per otto referendum abrogativi contro le scelte di governo. Sono otto quesiti, due sulla legge elettorale, due appunto contro l'abrogazione delle trivelle sia di un tipo a mare che come carattere strategico, quindi dovunque, la legge che prevede norme in deroga per le grandi opere, altri due sono sul Jobs Act, quindi per abrogare demanzionamento dei lavoratori, licenziamenti collettivi, e l'ultima, bella fresca fresca sulla buona scuola, per eliminare una delle norme cardine che è quella del preside manager, dove c'è previsto appunto questo governo, previsto un capo anche nel mondo della scuola che decida un po' tutto. Basta divano, ritorna sovrano, l'Italia non cambia con i like su Facebook, firma anche tu per il referendum. E questo è lo slogan con cui, possibile, il movimento politico di Pippo Civati ha lanciato la campagna referendaria nelle regioni italiane davanti ai consigli regionali. Una campagna referendaria che non abbia colore politico, ma come obiettivo solo l'interesse dei cittadini, precisa Paolo Dell'Aventura. Abbiamo fatto anche un appello al Presidente Luciano D'Alfonso e anche all'assistore Mazzocca che rilanciamo, visto che comunque molte regioni si sono dimostrate contrarie a parole, quindi vogliamo andare avanti insieme. Gli stiamo dicendo, Presidente, andiamo avanti insieme. Michele Emiliano per la Puglia ha già dato la sua disponibilità a firmare, ha detto che firmerà. Si è unito anche ieri il Presidente della Calabria, quindi cerchiamo di andare avanti insieme con tutto quello che per noi ha fatto questo governo che non va. Ed ora a Teramo dove non si placa la polemica per i tagli da parte del Comune sui servizi ai disabili, ma soprattutto per la compartecipazione che le famiglie dovrebbero fare con le spese, una parte a carico del Comune e l'altra proprio a carico delle famiglie. Questa mattina nuovo incontro di alcuni rappresentanti con l'assessore alle politiche sociali del Comune di Teramo, Valeria Misticoni, incontro al quale hanno preso parte anche alcuni esponenti dell'opposizione. La protesta delle famiglie di persone con forti disabilità contro la decisione dell'amministrazione Brucchi di introdurre la compartecipazione delle spese assistenziali non accenna a placarsi. Questa mattina una delegazione era ancora in comune per un incontro con l'assessore alle politiche sociali Valeria Misticoni. La discussione è stata animata, ma la posizione della maggioranza sull'argomento è rimasta la stessa, inamovibile. Abbiamo detto in accordo con il Sindaco che il 25 agosto ci vedremo con una riunione tecnica nella quale inviteremo anche le AS e alcune delle associazioni di disabili per vedere quali sono delle correttive eventuali e futuri che si possono apportare. Certo, l'impianto del provvedimento c'è e rimane quello. Di posizione diversa le opposizioni che al termine dell'incontro, al quale hanno assistito anche i rappresentanti della minoranza, hanno fatto sentire la loro voce e rivendicando il diritto da parte delle famiglie di usufruire degli stessi livelli assistenziali avuti fino ad oggi, grazie anche a una più razionale, a loro dire, ridistribuzione della spesa e degli investimenti dei soldi del comune. Chiediamo all'amministrazione un intervento a doppio binario, uno a regime, quindi a più lunga gittata, che servirà a rimodulare in modo chiaro quelle che sono queste soglie di reddito assolutamente ingiuste e non eque per le famiglie. Soprattutto chiediamo un intervento immediato per tamponare la situazione emergenziale che si è creata nell'immediato. Innanzitutto si deve sospendere immediatamente il provvedimento amministrativo, anche perché i soldi stanziati ci sono, e quindi prendersi un periodo di un mese, un mese e mezzo, per poi sedersi intorno a un tavolo e fare uno studio serio, anche caso per caso, per riformulare e rivedere i criteri, se effettivamente è necessario, se effettivamente bisogna risparmiare delle risorse, perché allo stato attuale le risorse ci sono. Oltre a quello della compartecipazione alle spese per l'assistenza ai disabili, a Teramo ci sono anche altri due argomenti caldi, riguardano la TEAM e poi la nomina di Presidenti all'Istituto Braga. Sindaco, c'è qualche nome che circola con maggiore frequenza ultimamente per la Presidenza del Braga? Noi abbiamo fatto una terna, una terna direi di tutto rispetto, dove c'è la dottoressa Paola Di Felice, c'è l'Avvocato Valente e c'è la dottoressa Rizzi, una terna direi ottima, tra l'altro condivisa con tutti gli enti, quindi Comune di Teramo, Comuncio di Genova, Provincia e Regione hanno condiviso la terna, ora vedremo chi il Ministro vorrà nominare. Però c'è la professoressa Di Felice che si aggira qui nel Comune, non è che lei è la favorita? No, la dottoressa Di Felice ha un ottimo curriculum, si aggira nel Comune perché è una dipendente comunale e quindi è giusto che sia qui anche perché credo che debba incontrare l'assessore Luca Antoni, che è l'assessore di riferimento, non c'è nessun altro motivo oltre questo, anche perché non decido io, decide il Ministro. A proposito dell'assessore Luca Antoni, rimpasto? Non è argomento di intervista. E invece della Team di cui avete parlato poco fa? Assolutamente è argomento di intervista, la Team oggi c'è stata l'ennesima commissione, la quarta vorrei dire per un provvedimento che è stato rinviato al 27 di agosto, nel pomeriggio dovremo votare per partire poi con la gara, oggi c'è stato un altro momento di condivisione per quanto riguarda anche con l'opposizione, io auspico che l'opposizione dia un voto favorevole a questo provvedimento, perché è un provvedimento nell'interesse della città. A Pescara l'amministrazione comunale questa mattina ha presentato l'ordinanza con la quale si vuole disciplinare il gioco d'azzardo in città negli esercizi commerciali. Gli esercenti però hanno contestato la razio della norma che li verrebbe penalizzati al loro giudizio rispetto alle sale da gioco. Tra le polemiche e le proteste degli esercenti, il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha presentato l'ordinanza che va a regolare e che intende contrastare il fenomeno della ludopatia. L'ordinanza segue un ordine del giorno votato in Consiglio Comunale e prevede orari stringenti per il gioco in bar, ristoranti, pizzerie, tabacchi e tutti quei locali che non hanno un'autorizzazione esclusiva per l'installazione delle macchinette. Si potrà giocare dalle 8 alle 12 e dalle 18 alle 23. Vi sono dei profili di legittimità che ci lasciano intendere come questa ordinanza possa essere migliorata e su cui intendiamo aprire naturalmente un dibattito. Il tema però di base è quello di fornire una risposta a un male sovente oscuro, sovente invisibile nel nostro tempo, che però esiste e che, ripeto, come dicevo prima, ha dei costi sociosanitari cui un pubblico amministratore non può essere indifferente. Quello che proprio non va giù agli esercenti è il doppio binario seguito dall'amministrazione comunale che non ha regolato l'attività delle sale gioco, quelle che esercitano l'attività in via esclusiva. Il sindaco ha spiegato che una ordinanza in questo senso sarebbe stata fragile dal punto di vista normativo, non sono dello stesso avviso gli altri esercenti che annunciano ricorsi. Credo che il sindaco voglia fare un'ordinanza che cerca di aiutare le persone che sono malate ma non è che chiudendo l'attività alle imprese si risolve il problema. Credo che ci voglia un tavolo di confronto immediato subito. Se poi viene limitata l'attività soltanto ai bar, ristoranti e pizzerie e tiene in piedi le sale scommesse, le sale gioco, secondo me questa è un'ordinanza che rischia di essere impugnata dal TAR e sicuramente qualche giudice dà la ragione alle piccole imprese. Tra poco verremo dei servizi da Montesilvano dove la giunta comunale ha tagliato il 20% delle indennità fra pochissimo. Nel frattempo spostiamoci sotto al Gran Sasso, al santuario di San Pietro della Ienca, quello dedicato a Papa Voitila dove torna la festa nel borgo dal mattino al tramonto. E' stato assegnato al sindaco di Assisi il premio della stela di bronzo che caratterizza il tradizionale appuntamento alla Ienca. Torna infatti domenica 9 agosto la giornata tanto attesa dagli amanti della natura e dai fedeli di Papa Voitila. Ci vediamo alla Ienca. Quest'anno la festa nel borgo, santuario di Papa Giovanni Paolo II, sarà pervaso dal gemellaggio ideale tra l'Aquila e Assisi. Noi spingiamo affinché si muova che cosa e faremo anche delle promozioni a Roma per quando riguarda i turisti che arriveranno da tutto il mondo per visitare la città dell'Aquila e il santuario di San Francesco. Il borgo però, che aspetta di accogliere migliaia di fedeli, non è ancora pronto urbanisticamente. Carenze strutturali di bagni e parcheggi ancora preoccupano molto l'associazione che lo gestisce. Stanno facendo ora i bagni e non ancora sono pronti. Comunque abbiamo messo i bagni chimici, perlomeno c'è qualche cosa. I parcheggi? I parcheggi ci sono tempi penso molto lunghi perché il finanziamento che fu messo in bilancio proprio da me che ero consigliere comunale è di 3-4 anni fa e non ancora si riesce a portare in porto il progetto dei parcheggi, molto importante perché domenica chi verrà su vedrà che non ci sono posti disponibili di parcheggio e l'agenda si dovrà arranciare sui cambi dove può. L'avevo annunciato prima di questo servizio, dunque a Montesilvano, sindaco e assessori si tagliano le indennità del 20%. La decisione è arrivata ieri nell'ambito del provvedimento sul bilancio. D'altra parte la cittadina adriatica è in seria difficoltà dal punto di vista dei conti. Comune sull'orlo del default e bilancio lacrime e sangue. Questa volta non solo sono i cittadini a pagare ma anche i politici. L'Aggiunta Maragno a Montesilvano ha deciso di tagliare del 20% l'indennità di sindaco e assessori. Viene così prodotto un risparmio di circa 140.000 euro. Troppo poco per sanare le falle milionarie nelle casse comunali, ma abbastanza per lanciare un segnale positivo alla cittadinanza. Credo che fosse un atto dovuto. Purtroppo non è un periodo favorevole per l'economia locale, anche per l'economia nazionale. Tutti sono chiamati a fare i sacrifici. Credo che comunque l'esempio debba essere dato dal primo cittadino della sua giunta. Abbiamo voluto fare questo per far capire ai cittadini che condividiamo purtroppo il momento negativo, è un momento di crisi, è un momento che purtroppo impatta negativamente sulle tasche dei cittadini ed è giusto condividere con loro questo periodo. Cosa contiene il bilancio anche per dare contezza ai cittadini di quello che si sta facendo? Contiene le misure necessarie a far quadrare i conti di un comune in grave crisi, in grave deficit economico-finanziario. Voglio ricordare che nel giro di una settimana ci sono piovuti addosso da sentenze e debiti per quasi 2 milioni di euro, debiti fuori bilancio per circa 3 milioni e mezzo di euro, che si vanno a sommare a un deficit strutturale di 3 milioni e mezzo di euro all'anno e ad un deficit globale costituito da debiti per circa 70 milioni. Abbiamo trovato una situazione davvero fortemente carente e deficitaria, stiamo cercando con sacrificio sia personale mio che di tutta la giunta e di tutta la struttura amministrativa di riequilibrare le situazioni di quest'ente per cercare di non incidere più sulle tasche dei cittadini. Meno quantità e più qualità, si può sintetizzare così lo spirito della quindicesima edizione dello Scherne Baskers Festival, rassegna internazionale degli artisti di strada che si tiene a Pineto da domani fino al 9. E questo è il parterre di artisti che parteciperanno allo Scherne Baskers Festival, la rassegna internazionale che da 15 anni anima Scherne di Pineto nel mese di agosto. Per l'edizione 2015 saranno 5 le postazioni in cui si esibiranno gli artisti di strada in un mix di tradizione circense ed innovazione legata soprattutto alla presenza della musica. Un festival che ha tentato di mantenere comunque la sua tradizione di luogo con più postazioni. Naturalmente non si può mai prescindere nell'organizzazione da quelle che sono le possibilità economiche, però quello che abbiamo tentato di fare è stato di mantenere un livello di eccellenza degli ospiti, degli artisti ospiti e anche di guardarci un attimo intorno rispetto all'eccellenza che noi abbiamo nel nostro territorio che nell'ambito, diciamo in questo momento, della musica sono estremamente importanti. Ed ora a Campo Imperatore dove torna la rassegna degli ovini per il tradizionale appuntamento con la pastorizia e i suoi prodotti migliaia hanno affollato Fonte Macina. Sono stati 10.500 i capi di bestiame radunati in località Fonte Macina per la 56esima rassegna ovini di Campo Imperatore. Un appuntamento immancabile per gli amanti della montagna e delle tradizioni legate alla pastorizia. In migliaia infatti hanno affollato la piana di Campo Imperatore per la mostra mercato delle produzioni tipiche della montagna. In giornata poi c'è stata anche la premiazione degli allevatori partecipanti alla rassegna ovini e il concorso dei formaggi ovini e caprini giunto ormai alla 18esima edizione. Molto apprezzata anche la sfilata di capi di abbigliamento prodotti con lana di pecore locali a cura dell'associazione Pecunia. Sono stata per anni impegnata nella valorizzazione di questa lana e grazie ad essa l'associazione Pecunia riusciamo a vendere direttamente la lana che viene prodotta dalle nostre pecore in matasse. Questo ha portato ad un aumento del reddito di 4 volte superiore rispetto a quello che si aveva in passato. Alla mostra mercato dei prodotti tipici hanno preso parte gli espositori provenienti da 6 regioni italiane Abruzzo, Puglia, Basilicata, Marche, Umbria e Lazio. Io ho portato 480 capi e sono stato premiato per la partecipazione perché adesso non ci stanno più le premiazioni in base agli animali, danno soltanto il pieno di partecipazione. Che razza sono le due pecore? Le mie sono le merinizate italiane iscritte al libro genealogico. La 56esima Rassegna Ovini è stata arricchita quest'anno dalla partecipazione attiva del Comune dell'Aquila e dei Comuni della Baronia, Castel del Monte, Calascio, Santo Stefano di Sessanio, Barisciano, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Ofena e Navelli con il circuito dei prodotti tipici che avrà il suo gran finale domenica prossima 9 agosto in corso Vittorio Emanuele nel centro storico dell'Aquila con una giornata dedicata alla vendita e alla degustazione delle produzioni tipiche del territorio aquilano. Torna il prossimo weekend Borsacchio in Festa, la manifestazione organizzata dall'Associazione Comitato di Quartiere Borsacchio con il patrocinio del Comune di Roseto degli Abruzzi è giunta alla sua terza edizione. Torna quest'anno la terza edizione di Borsacchio in Festa, tre serate all'insegna di musica, cabaret, teatro e gastronomia. Devo ringraziare per prima l'amministrazione comunale che ci permette ancora per il terzo anno a fare questa manifestazione. Ci tengo moltissimo a ringraziare tutti i miei collaboratori, noi siamo 11 di cui io rappresento la presidenza di questo comitato però senza di loro non potrei fare niente. Qual è il programma delle tre serate? Il programma è un programma molto importante, 8 agosto avremo ospite Uccio De Santis, grande cabarettista pugliese ormai famoso in tutta Italia accompagnato dall'orchestra da favola. Il 9 agosto è la giornata più importante per la quale insomma abbiamo messo in maggior impegno ed è il concerto di Anna Lisa. Tutti gli spettacoli sono ingresso gratuito quindi anche Anna Lisa che ha inserito Roseto nel suo tour, Splendet Tour. Il 10 agosto concluderemo la festa con il teatro dialettale quindi rispetteremo la tradizione abruzzese con la compagnia d'insieme per San Giovanni. Quindi vi aspettiamo 8, 9 e 10 agosto al quartiere Borsacchio. Ringrazio il comitato del Borsacchio per l'impegno che ha messo per aver organizzato tre giorni di eventi molto particolari, molto interessanti con personaggi di grosso livello e con un grande sforzo economico e questo ci tengo a dirlo senza sostegno finanziario da parte degli enti pubblici ma con risorse solo che il comitato ha trovato tramite i privati e gli sponsor privati. Quindi invito anche i cittadini a dare una mano anche acquistando magari un biglietto di lotteria che costa solo un euro e magari tanti euro possano aiutare a sostenere questa bella manifestazione. Ed ora la pagina sportiva. Saranno sei giorni di passione per i tifosi del Teramo. Infatti mercoledì prossimo a Roma si terrà il processo davanti alla Corte federale per quello che riguarda la partita Savona-Teramo del 2 maggio scorso che ha consegnato la promozione in Serie B ai Biancorossi di Vincenzo Vivarini. In questi negli ultimi tre giorni l'avvocato del Teramo, Edoardo Chiacchio, è stato in città, ha studiato bene le carte, ha tracciato con i dirigenti del Teramo quella che sarà la linea difensiva della società biancorossa con la speranza di poter mantenere la Serie B. E oggi, prima di ripartire, ha detto questo. Avvocato, lei ha dichiarato la scorsa settimana che andrà al processo per divertirsi, ma sarà proprio una passeggiata di salute il 12? No, certamente la salute ho rischiato di perderla in questi oramai due mesi di lavoro. E' una dichiarazione che può essere equiparata a quella di un calciatore che va a fare una finale ed è convinto di aver fatto il massimo e che quindi spera di divertirsi. Una dichiarazione ottimistica. Mi divertirò perché darò il massimo e sono fiducioso di poter spuntare in una situazione che in ogni caso rimane complessa, ma era molto più complessa prima. Oggi invece ci sono tanti spiragli che ci consentono di essere ottimisti. Le finali si giocano da favoriti o da sfavoriti. Il Teramo, visto che lei ha usato questa metafora, come la gioca questa finale? No, è vero, sa che prima della finale gli allenatori non si sbilanciano mai e dire ad un allenatore che è favorito in genere determina una reazione e che il ruolo di favorito non lo vuole nessuno. No, noi siamo fiduciosi e convinti di portare a termine il nostro risultato che è la partecipazione al Campeonato di Serie B nella stagione 2015-2016. Gli allenatori però a volte non fanno pretattica. Quelli più coraggiosi danno la formazione. Lei dopo aver letto in questi giorni tutte le carte e aver tracciato le strategie difensive, qualcosa in più di quella che sarà la sua linea a Roma la può dire? No, no, faccio pretattiche strategie più degli allenatori più oltrazisti, anche perché i termini per il deposito delle memorie scade lunedì e stiamo ancora lavorando. Se io sono qui oramai già da due giorni vuol dire che sto lavorando e sto insieme con i miei colleghi che sono venuti da Napoli, sto facendo il massimo per arrivare in una condizione di tranquillità al dibattimento. Facciamo queste ipotesi, cancelliamo il fatto che c'è ancora un secondo grado di giudizio poi dopo il 12 di agosto, quindi dopo mercoledì prossimo. Facciamo un salto nel tempo di una settimana, spostiamoci a giovedì prossimo, senza il secondo grado di giudizio. Il Teramo tra sette giorni sarà ancora in Serie B, secondo lei? Io credo proprio di sì. Ed ora il Pescara dove si attende che arrivi finalmente la firma dell'attaccante Cristian Galano lo scorso anno al Bari, ma la società sta lavorando anche per piazzare sul mercato gli elementi che sono stati giudicati in esubero dall'allenatore Massimo Oddo nel pomeriggio amichevole a Palena contro una rappresentativa locale. Potrebbe arrivare nelle prossime ore l'ufficialità dell'arrivo di Cristian Galano. Il Robben delle Puglie, come viene soprannominato, è uno dei giocatori richiesti dal tecnico pescarese Oddo, che ne apprezza le qualità. Galano è ideale nel 4-3-3, come il classico mancino che gioca a destra, ma può essere essenziale anche come trequartista in caso di 4-3-1-2. L'accordo con il giocatore è stato già trovato, manca quello tra le società, ma ci siamo, anche perché il contratto di Galano scadrà il prossimo giugno e gli arrivi di Puskas e Camarà e quello imminente di Bianchi sono ulteriori indizi che portano all'addio al Bari e l'approdo alla corte del Delfino. Il pescare tiene poi aperte altre piste per potenziare l'attacco. Per Diego Falcinelli bisogna fare i conti con la volontà del Sassuolo di non privarsi del giocatore. Per il bolognese Matteo Mancosu non manca la concorrenza, in primis quella del ripescato Brescia. Difficile l'approdo dell'Atalantino Richmond Boacì, che piace parecchio a Oddo, ma l'Atalanta preferisce aspettare e non farà andare il calciatore garense prima delle prossime due settimane, periodo nel quale il Delfino dovrà concentrarsi anche sulle uscite. Sempre in bilico la posizione dell'albanese Lejan Memushay. Qualora l'Empoli affondi il colpo con convinzione, il presidente Sebastiani potrebbe cedere. Il Pescara rischierebbe di perdere un giocatore importante, non solo tecnicamente, quanto per il peso specifico a livello di leadership in campo. Nonostante il contratto da poco firmato, potrebbe partire il terzino Andrea Rossi, non solo per l'abbondanza nel reparto, ma anche per la presenza di alcune squadre interessate, in particolare il Brescia. Restano da definire le destinazioni dei giocatori non convocati al ritiro di Palena, perché non rientrano nei piani di Oddo. Pesoli e Milicevic interessano l'Aquila, che guarda con interesse anche Sposito, con le valigie pronte anche Scrugghi, Grillo, Barbuti e Nielsen. Intanto dovrà stare fermo un paio di settimane il difensore Gordon Bunoza per un problema muscolare alla coscia sinistra. La partita di Team Cup di domenica prossima alle 20.45 contro il Sud Tirol di Stroppa sarà diretta da Valerio Marini di Roma 1. Amichevole per il Pescara, ma ultima amichevole prima della Team Cup, vale a dire della partita di domenica prossima alle 19 contro il Cittadella in casa per il Teramo, che questo pomeriggio, che stasera giocherà contro l'Avezzano a Dei Marsi. Invece parliamo adesso della Virtus Lanciano. L'attaccante Pietro Iemmello ha giurato fedeltà alla Virtus, vuole giocare in Serie B, vuole restare a Lanciano. Poi è arrivata anche la designazione arbitrale per la gara di Team Cup tra Virtus Lanciano e Juve Stabia, che sarà diretta da una abruzzese, vale a dire di Paolo di Avezzano. Intanto si presentano i nuovi, vado a dire Luca Crecco e Antonio Rozzi. La testa rivolta solo a Lanciano. Le voci di un addio lampo di Pietro Iemmello sono state cancellate dalle parole dell'attaccante, riportate ieri sera sul sito ufficiale della società. Ho scelto di giocare in Serie B con il Lanciano ed oggi il mio pensiero è rivolto al campo e alla squadra in cui gioco. Questi alcuni passaggi delle parole del centravanti, che nei giorni scorsi era dato come pronto a tornare in Lega Pro a Foggia, dove aveva giocato lo scorso anno. Sarebbe mancato l'accordo tra la società Dauna e lo Spezia, che quindi lo ha girato in prestito alla Virtus, resistendo a ulteriori tentativi del Foggia. Il reparto d'attacco così è ricco di elementi e qualcuno dovrà partire. De Silvestro o Di Benedetto sono gli indiziati principali. Per il ruolo di portiere in stand-by Cragno, dopo il nome di Pomini, le attenzioni del DS Leone si sono concentrate su un giovane di belle speranze. Si tratta del Laziale Guido Guerrieri, classe 96. L'asse con la Lazio è comunque forte, come dimostrano le ultime operazioni in entrata, messe a segno della Virtus, Luca Crecco e Antonio Rozzi. Il primo, centrocampista classe 95, viene da una buona stagione con la Ternana. Ho scelto Danciano perché ho visto che era una squadra che mi voleva fortemente e ho visto che anche c'era un progetto con i giovani. Mi è piaciuto e quindi ho scelto di venire qui. Diciamo che sono un giocatore di corsa, non tanto di tecnica. Mi piace infilarmi sullo spazio e sulla fascia. E in cerca di riscatto l'attaccante Mancino, classe 94, Antonio Rozzi. Conoscendo anche altri ragazzi che sono di qua e hanno fatto questa esperienza, dove è stato anche un trampone di lancio per molti ragazzi, e ho pensato comunque di venire qui proprio per questo motivo, perché comunque è una bella realtà dove si ha la possibilità anche per i giovani di esprimersi e con la speranza e la volontà di fare il meglio. È tutto anche per questa edizione. L'informazione su TV6 torna questa sera, come al solito, alle ore 19. Grazie per averci scelto. Grazie per aver guardato il video.